ciao a tutti sono checco fornarelli volevo con questo messaggio salutare tutti gli amici dell'istituto italiano di cultura di osaka e tutti quanti voi sono oramai tre anni che manco dal giappone purtroppo non so quando potrò tornarci perché come ben sappiamo siamo tutti quanti costretti a casa da questa nuova terribile epidemia del coronavirus è però anche un momento speciale un momento di rinascita in cui tutti quanti noi abbiamo l'occasione di tornare a stringerci seppur virtualmente seppur a distanza in un nuovo bellissimo grande abbraccio per questo motivo con grandissimo amore con grandissimo piacere mi invito a vedere questi video dal mio ultimo progetto abaton live session sono sei video registrati qualche mese fa con il mio trio e anche con una piccola orchestra d'archi nella speranza di poter tornare il più presto possibile tutti quanti noi a stringerci di persona e tornare a fare musica insieme in una sala da concerto mi raccomando restate a casa prendetevi cura di voi e continuate a sostenere la musica a presto 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.